aspetta vai sto registrando ecco cosa ha preso marco ha preso qualcosa tal alza tira tira hai capito cosa hai preso tira 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 su guardate che bello questo è un 23 è un wish stefan anche sta in dirittura di arrivo attenzione marco vedi dove andare a mare ci troviamo sul porto di pozzuoli ma marco che stimola non lo so si ha preso scappato ha scappato e vabbè adesso lanciamo un'altra volta bella giornata di sole scappato e non fa niente basta 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 alla prossima bravo